Ed eccoci qua con un altro video, io sono Issam e l'inverno scorso ho avuto un'esperienza veramente fantastica con l'Engui EP2 oggi vediamo invece l'Engui EP2 Pro che è una bicicletta elettrica pedalata assistita questa volta non da 500 watt di motore ma da 700 watt e le biciclette Engui sono disegnate in California ma non vi preoccupate perché comunque sono originali made in China e come potete notare la bicicletta arriva perfettamente protetta all'interno della scatola la bicicletta arriva quasi tutta montata non dobbiamo far altro che togliere le protezioni dell'imballaggio montare i pedali e inserire il manubrio e arriva con il comodissimo sellino già montato di solito raccomando di mettere un po' di grasso al silicone sul tubo per evitare di rigarlo quando cambiamo altezza in questo caso non lo dovete mettere neanche qua perché qui all'interno abbiamo una protezione che sembra in teflon che non serve solamente ad evitare di rigare il sellino di altezza regolabile ma lo tiene in posizione molto meglio come abbiamo detto all'inizio di questo video questa bicicletta ha un motore da 750 watt di assorbimento e sicuramente se avete visto il video precedente della bezor che aveva un motore da 1500 watt addirittura che la potenza del motore non conta da sola ma ci sono altri componenti che contribuiscono alla spinta all'espressione della potenza massima del motore infatti questa bicicletta arriva addirittura a 47 48 km all'ora comunque si può notare da subito anche a vuoto che la spinta iniziale di questo motore viene espressa al massimo e questo non è grazie solamente alla capacità della batteria da 12,8 ampere ora 48,1 volt esattamente come la bezior ma è grazie al bms interno alla batteria da 20 ampere e anche all'esc da 18 ampere e sono davvero molto entusiasta di provarla subito non tanto per verificare la teoria perché la matematica non mente ma perché sono sicuro che sarà super emozionante e non sono solamente entusiasta di provare questa bicicletta ma sono anche molto molto felice perché con questa bicicletta non arriva solamente il manuale di istruzioni della bicicletta completo con fotografie tutto purtroppo solamente in lingua inglese ma ha fatto benissimo ma arriva anche il manuale di istruzioni del display multifunzione con tutte le funzioni che possiamo cambiare possiamo mettere un limite di velocità limite di potenza possiamo fare quello che vogliamo e qua abbiamo le istruzioni complete ha finalmente qualcuno ci ha pensato nella scatola arriva anche uno strumento multi chiave col quale possiamo smontare tarare registrare tutto quello che vogliamo che comunque come avete notato non mi è assolutamente servito perché arriva già montata registrata tutta completa dovete solamente gonfiare le gomme alla pressione adeguata al vostro peso e tipo di utilizzo rispettando la pressione massima scritta sulle gomme e per quanto riguarda il caricabatterie in dotazione è da 54,6 volt 2 ampere e come abbiamo imparato sul canale 12,8 che la capacità della batteria diviso 2 ampere che la velocità di carica del caricabatterie la batteria si ricarica completamente da zero in circa 6 ore e qualcosa e come al solito vi lascio il link e coupon sconto nella descrizione del video a questa bellissima bicicletta che viene consegnata in circa 3-7 giorni dai magazzini europei del produttore stesso Engui nel frattempo vi saluto e ci vediamo nel prossimo video dove metteremo alla prova la nuova Engui e P2 Pro ciao